I fan di Royal hanno evidenziato la somiglianza della principessa Charlotte con la regina in una nuova foto pubblicata dai Cambridges, venerdì il principe William e Kate hanno condiviso la loro foto ufficiale della cartolina di Natale. Lo scatto mostra il duca e la duchessa di Cambridge e i loro tre figli in Giordania all'inizio di quest'anno, la cartolina di Natale ha suscitato una reazione entusiasta da parte dei fan reali su Twitter. Con molti che hanno sottolineato la somiglianza di Charlotte di sei anni con la bisnonna. Un utente di Twitter, Chiocciola Zaina Family Mary, ha commentato, grazie per aver condiviso una foto della tua famiglia. La principessa Charlotte mi ricorda così tanto sua maestà. Buon Natale a tutti voi. Un altro, Chiocciola Gemecrat 531, ha detto, puoi davvero vedere la regina Elisabetta in Princess Charlotte, un terzo con la maniglia Chiocciola e Delgado 13 ha aggiunto. Sono solo io o Charlotte sembra esattamente come la regina e il piccolo lui sa molto di Filippo in lui, negli occhi, sguardo. Un altro utente, Chiocciola Margari 48049649, ha scritto, Charlotte è una principessa così carina, è una versione mini della regina. Giorgi in questa foto mi ricorda molto Charles, il fratello di Diana. Un utente di Instagram, Deidra 0004, ha detto, così bella. Charlotte assomiglia proprio alla regina Elisabetta quando Elisabetta aveva la sua età. Un altro, Mario-V-Gomez, ha aggiunto, Charlotte è tutta Windsor e Louis è tutta Middleton. E George è un mix. Nella foto della cartolina di Natale, William e Kate si siedono uno accanto all'altro e appoggiano una mano sul ginocchio dell'altro in un raro gesto romantico. Il principe George, otto anni, e Charlotte, sei, sono accanto ai loro genitori, mentre il principe Louis di tre anni è seduto di fronte a loro. La famiglia di cinque persone sembra rilassata in abiti casual per lo scatto. Kate stupisce con un abito color khaki, mentre William opta per un Apollo in una tonalità simile. George indossa una maglietta mimetica e pantaloncini per la foto. Charlotte sembra dolce con un vestito a quadretti blu e bianco, mentre il piccolo Louis sfoggia una maglietta a righe blu e bianche e pantaloncini chiari.